Siamo con il professor Mario Tiberi, allora professore, oggi si ricorda Federico Caffè, un grande economista, un grande uomo, che cosa ha lasciato in eredità a questa facoltà? Beh, ha lasciato un esempio di dedizione al suo lavoro come docente, come uomo, come intellettuale. Molti di noi sono stati i suoi allievi e cercano per quanto è possibile di evitare e di seguire il suo insegnamento dando alla loro attività questi contenuti di alto profilo. Il punto particolare di il suo insegnamento era quello di saper ascoltare le ragioni degli studenti, che non significa essere sempre d'accordo con loro, però significa essenzialmente saper dialogare con loro.